Una canzone nello spettacolo che si chiama Il Conformista, cosa volevi raccontare? Volevo raccontare che non avendo una percezione autonoma, perché in qualche modo siamo bombardati da una quantità di informazioni più o meno attendibili, più o meno vere, ma sicuramente non sufficienti ad allargare la nostra conoscenza in profondità. In genere ci arrivano questi segnali, noi ne prendiamo atto stupiti, alcune volte addolorati, però non riusciamo poi a crearci delle idee precise, queste idee precise ci sono in qualche modo trasmesse dai mass media e in qualche modo ognuno di noi è praticamente schiavo di queste cose che ci arrivano, per cui questa quantità di cose che si sanno non corrisponde a qualcosa che si sa veramente, io parlo dello spettacolo di minimo storico di coscienza, nel senso che la coscienza significa avere dei punti di riferimento precisi, magari anche pochi, però quelli veri, mi sembra che oggi il discorso sia molto precario, che ognuno sappia tante cose ma in realtà non sappia niente. Grazie! Grazie! Grazie!